Continuiamo? Sì, sì. Allora, nelle ultime scene salta fuori che il nome del mio amante è Alfredo. Ecco, Alfredo è in un giro di affari di droga, è molto ricco, e ha una barca e gira sempre con questa barca. E una sera, infatti, viene invitato a cena su un molo con Travis e il mio personaggio. In quel momento un agente segreto si getta tutto nudo in mare per raggiungere la barca e perquisirla. Il caso vuole però che Travis abbia un mal di testa che la costringe a tornare immediatamente in barca con Alfredo arrabbiatissimo. E a quel punto la mia battuta doveva essere Alfredo, ma che ci posso farci? Che ci posso farci? Che ci posso farci? Che ci posso fare io se ho un mal di testa? E questa scena l'abbiamo ripetuta un po' di volte. Poi Gunther, il regista, è venuto da me e ha detto Guarda, penso che Travis sarebbe molto più efficace se invece di un mal di testa normale avessi un'emicrania così forte da impedirle di parlare. È vero? E dico sì? E allora che cosa vuoi che faccia? Dice quello che vuoi tu, basta che non parli. Io adoro quando un regista inizia a fidarsi di me perché vuol dire che posso veramente costruire qualcosa, capisci? Comunque io e Alfredo torniamo sulla barca e troviamo il poliziotto nudo nascosto dietro ad un divano. Alfredo prende la pistola fa per ammazzarlo ma invece sono io che prendo la pistola ad Alfredo e sparo ad Alfredo per salvare il poliziotto. E siccome lo vedo tutto nudo io inizio a sfogliarmi istintivamente e dico a Gunther ma che mi dici se qui adesso lei facesse l'amore col poliziotto? E Gunther mi ferma subito e fa no perché la morale della storia è molto profonda. Praticamente il poliziotto torna a casa e fa l'amore con la sua fidanzata perché la morale è che è meglio fare l'amore con qualcuno che ami piuttosto che con Travis che è una ragazza molto facile. E questa cosa me la dice a letto la sera quando stiamo insieme. Mi dice sai il film ha una morale veramente profonda ma il problema è che non so se lo capiranno. E io gli dico guarda che io l'ho capito benissimo anzi questa cosa io e te ho capito che dovevamo farla prima. E lui mi fa ma scherzi io ho una sola regola e la mia regola numero uno è che non si tocca mai un'attrice prima che tutto finisca. Che regista immenso Gunther?